La guerra è cominciata e le nostre forze militari sono insufficienti. Direttore Fury, ci siamo. Una missione, signore. Volerei inserirmi nel mondo. Voglio salvarlo. Dottore, abbiamo bisogno di lei. E se io dicessi di no? La convincerò. Cosa mi sta chiedendo di fare? Era conosciuto come il progetto Vendicatori. Pensavo di non essere idoneo. A quanto pare sono, come diceva, instabile, egoista e non ho un buon rapporto con gli altri. Hanno bisogno di una pausa. Devi essere molto disperato per rivolgerti a delle creature smarrite per difenderti. e grazie a te se sono molto disperato. Non siamo una squadra, ma una bomba pronta ad esplodere. non siamo mai stati addestrati per questo. No! 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 Ragazzi, la festa la facciamo da voi. non c'era due, che è un problema, non c'è un problema che è qui. Grazie a tutti.